Parlando di nei dal punto di vista estetico, quelli posizionati sul viso o in altre parti del corpo possono rappresentare un elemento di fascino e di caratterizzazione, ma se vogliamo affrontare l'argomento dal punto di vista medico dobbiamo considerare che sì sono una caratteristica della nostra pelle ma che vanno costantemente controllati nella loro forma, dimensione e colore e se queste variano sono un campanello d'allarme. Ora, grazie ad un'iniziativa del Rotary Club di Fano, 120 persone potranno dare una controllata ai propri nei. Offriamo 120 visite di prevenzione dei tumori cutanei in collaborazione con i dermatologi degli ospedali riuniti Marche Nord e i dermatologi del territorio. Le visite si terranno gratuitamente all'interno dei locali dell'Università di Urbino, sede di Fano e ringrazio per questo il professor Magnani e il professor Fanelli. È uno dei pilastri fondamentali dell'azione del Rotary, la tutela della salute e credo con questo evento diamo ulteriormente corpo alla nostra azione sul territorio. I 120 posti a disposizione sono andati esauriti in pochi giorni e così sabato 28, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 e domenica 29, dalle 9 alle 13, sei dermatologi ospedalieri ed ambulatoriali di Marche Nord potranno visitare gratuitamente i pazienti ma faranno il possibile, tempo permettendo, per visitare qualcuno anche di non prenotato. Vogliamo oprire l'Università ad altro, vogliamo oprire a tutta la cittadinanza e cominciamo ad attivare iniziative e che coinvolgano il pubblico in generale, l'utenza in generale, la città in generale e in questa maniera promuovere anche la conoscenza di quello che stiamo facendo tutti i giorni. I melanomi della pelle sono tra i più diffusi e vista la loro aggressività, la prevenzione rimane comunque l'arma migliore a disposizione. Il melanoma, come tutti sanno, è un tumore molto aggressivo che comunque può essere diagnosticato precocemente e curato perfettamente. Quindi dobbiamo arrivare a avere il massimo di lesioni sottili da asportare. Attualmente abbiamo un 90% di melanomi che vengono diagnosticati in fase molto precoce e quindi guariscono perfettamente. Il melanoma deriva da nevi che degenerano, può essere diagnosticato con un autoesame, bisogna fare attenzione a lesioni che cambiano, che si modificano, che si allargano oppure lesioni che compaiono d'emblè su cute sana. Quindi sono tutti elementi che devono far sospettare un melanoma.